Ciao amici da Frank Bianconero, Eriksen ufficiale, nuovo giocatore dell'Inter e l'Inter ha fatto un acquisto sulla carta, un acquisto ottimo un giocatore che comunque fino a un anno e mezzo fa valeva intorno alle 80 milioni che l'ha acquistato con 21 milioni con uno stipendio ormai l'Inter sta crescendo perciò è uno stipendio che va alla fine più o meno così si vocifra intorno ai 10 milioni di euro ma stiamo parlando nel suo ruolo come trequartista parlo io ora non so l'Inter o Conte se lo metterà al posto di Sensi come mezzala questo lo vedremo sul campo ma comunque l'acquisto è stato per me fenomenale se io penso sempre che nel centrocampo Matuidi c'è stato a 21 milioni Eriksen un po' mi sale il rosicamento però ovviamente io sulla rosa della Juve in maniera totale non posso lamentarmi ci mancherebbe l'Inter sta cominciando a crescere l'Inter che se dovesse prendere anche Giroud come si dice ho un altro centrocampista come Cucca perché secondo me e lo dico così un po' da vissuto di Conte ovviamente lui voleva Vidal per la sua capacità di gioco modalità di gioco Conte vuole quelli di fisico di gamba ecco perché sembra che o resti vecino o vorrebbe Cucca Cucca lo può prendere in maniera più semplice perché dall'altra parte c'è Fagiano del Parma che è un amico fraterno da quando era a Siena di Conte perciò secondo me uno di questi centrocampisti l'Inter li prende come ho detto Eriksen per me è un trequartista io dico che in Europa c'è De Bruyne, Izko, Eriksen e pochi altri come tipologia di ruolo, come capacità di fare ruolo nell'impostare, nel fare assist, comunque anche qualche gol nelle gambe destro e sinistro, ha un'ottima visione di gioco potrebbe giocare anche davanti alla difesa come playmaker perciò Complimenta l'Inter ha fatto un ottimo acquisto e come dico sempre ora non si può nascondere dicendo il mercato non va bene perché ora è in corsa comunque per lo scudetto e non si può nascondere che lotta per lo scudetto l'allenatore sminuirà sempre e poi voglio dire, leggevo sui social che tanti dicono avesse comprato la Juve Eriksen sarebbe successo il finimondo in maniera positiva io invece vi dico che l'acquisto è ottimo ma sia la società che l'allenatore dell'Inter non hanno pompato anche a dovere questo acquisto perché se l'allenatore dell'Inter sminuisce sempre il mercato dicendo non è che abbiamo comprato il Real Madrid o mezzo Real Madrid rispetto a quello che fa l'Inter non è un bel vedere e se non si carica anche l'ambiente esterno come i tifosi così è normale che non c'è questo putiferio positivo a livello social o d'immagine perché se quando lo sentiremo non dirà che l'Inter ha acquistato un grande giocatore vuol dire che è proprio lui e non si sa se volesse proprio quella tipologia non stiamo discutendo il valore tecnico del giocatore se voleva quella tipologia per me lui ha chiesto all'Inter se potesse o se poteva fare carte false per acquistare Vidal poi il Barcellona ha cambiato allenatore ha un'altra idea a sette anni il nuovo allenatore del Barcellona perciò secondo me arrivava Vidal e non Eriksson e io dico da tifoso Juventino e ora diciamo preoccupato calcisticamente parlando che l'Inter comunque ci ha attaccato come la Lazio Vidal a me mi avrebbe fatto più paura perché si inserisce meglio perché conosce già Conte le sue metodologie il suo tipo di schema perciò Eriksson è un giocatore che non è che devi stare a parlare troppo perché quando i giocatori hanno testa e piede ci mettono un attimo però comunque a livello tattico è un giocatore che non viene dal 3-5-2 è un allenatore che ha fatto sempre il 4-2-3-1 il 4-4-1-1 il 4-3-3 a volte ha fatto la mezzala a volte fa il sottopunto a volte fa le due e mezza punta come il Tottenham con delle ali e Ken davanti perciò è tutto da scoprire in Italia però in Italia ovviamente arriva un giocatore di alto livello e non diciamo sempre le stesse cose perché anche Ibrahimovic e Buffon non hanno vinto la Champions arriva da 7-8 anni che il Tottenham è stato sempre lì ma non ha vinto mai nulla ma non conta sempre solo un giocatore ci vuole sempre la squadra e più persone capaci di giocare a calcio perciò in maniera tranquilla e equilibrata faccio i complimenti all'Inter e il tifosi all'Inter che secondo me negli ultimi anni Lautaro si sta verificando un ottimo acquisto ma non si conosceva magari prima Lukaku a me è sempre piaciuto non l'ho mai nascosto ed è un buon acquisto Ericsson forse è quello anche a livello tecnico è quello che piace di più in questi ultimi anni dell'Inter perciò speriamo sempre con meno polemiche possibili di fare tutti un bel campionato che vinca la migliore non sulla carta perché se no non ci sarebbe campionato ma sul campo perciò ciao a tutti da Frank Bianconero di nuovo complimenti all'Inter iscrivetevi al canale ma sempre fino alla fine forza Juve grazie grazie grazie